In yoga si chiama boat pose, allora sollevo le gambe da terra e noi dobbiamo provare a trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù, abdominali tesi, e su e scendo giù, e su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficili potete mettere una superficie instabile sotto i glutei tipo cuscino, in questo momento ho una superficie non tutta omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibromuscolari. E scendo giù, continuiamo su e giù, abdominali più tese possibile, su e giù, ancora due volte, e giù, e ultima, e scendi. Eccellente, andiamo sul prossimo esercizio. Altro esercizio, incrocia la gamba sopra l'altra, ok? E solleva l'altra gamba a squadra, a 90 gradi. E chiudiamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, mantieniti in centro, tieni la posizione, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, di nuovo in chiusura. Scusate, mi sposto poco a poco perché c'ho un sasso sotto la schiena, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ottimo otto. Scusate, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, mantenete la posizione, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, e cambio lato. Ok, cambio la gamba, solleva sempre nel modo uguale e continuiamo. Otto, sette, sei, cinque, tiri sulle fianche, tre, due, in centro trattengo, spalle e fianchi proprio chiusi, ok? Ancora, quattro, tre, due, di nuovo andiamo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, trattengo in centro. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ottimo otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and relax. Andiamo sul prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, in avanti, tiro, abdominali tesi, una bella torsione, in avanti, ancora, tiro in avanti, ah sì, ok? Siamo a venti secondi, se dovete interrompere, interrompete, per il minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a venticinque secondi, in avanti, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai, 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 abdominali tesi, senti il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora, dieci secondi da adesso, continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nella mischia per l'ultima, tre, due, uno, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte, subito, sollevo, ok? Minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok? Porto in avanti, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori all'abdominale è di dare il meno recupero possibile, ok? L'abdome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare, chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome, sto dicendo frottole, perché se ti è lena l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rasoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piacciono le plance perché le plance mi permettono di lavorare senza strassare il collo e la schiena Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo Dai, 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 spingo in avanti, spingo in avanti, tira, tira Ultime dieci secondi, vai, 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 dieci, ancora E l'ultima cinque, quattro, tre, due, uno, e relax, passiamo sul prossimo esercizio Amo anche i classici abdominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati Allora, scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa Non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca E sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su Un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Sollevo, per i bassi abdominali Allora, quando state lavorando in questa posizione Provate ad immaginare un canovaccio Proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok? Rotolando, e questo ti passa a salire Oh, c'è il sole di Fuerte che ce l'ho negli occhi Ma meravigliosa Pensa che è novembre E so così a Fuerteventura A novembre, meraviglioso Un sole che spacca le pietre Veramente meraviglioso Continuiamo Facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate 8, 7, provate di staccare ogni volta Proprio le scapole da terra Delle spalle almeno Ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e l'ultimo 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax Passiamo al prossimo esercizio Adesso, portate i fianchi in neutro, ok? Le spalle sono sollevate e le gambe sono sollevate 1, 2, e cambio E cambio E cambio Trattenendo proprio i vostri fianchi Non farli muovere Non inercare la schiena E controllo Ok Ancora 45 secondi Continua Vai Vai E controllo Guarda l'ombelico Ok, guardate il vostro ombelico Trattenendo sempre l'abdome Ok? Ancora 30 secondi Continuiamo Vai Controllo Abdominare tesi E tesi Vai vai Ancora 20 secondi più o meno Continuiamo Se ti dà fastidio il collo potete tenere una mano indietro la nuca E l'altra che segue le gambe Ok? Ancora Trattengo Ancora 4 3 2 And relax Passiamo al prossimo esercizio Appoggiatevi su un gluteo Proprio sulla parte del gluteo Stendete le gambe E andiamo in diagonale Ok? Teniamo la posizione Più possibile Ok Continuate Tenete la posizione Potete sollevare E scendere volendo Ok? Su e giù Ok? Piccole piccole contrazioni Io amo tantissimo l'isometria Io penso che l'isometria è un modo eccellente per fortificare il corpo Mantenendo l'eleganza Ok? L'eleganza dei muscoli Tenendoli belli lunghi Ok? Ancora 5 secondi Siamo a 30 secondi di quasi isometria Perché se sono in movimento Però adesso piccola torsione Ok? Adesso diventa difficile Adesso diventa un bel allenamento E continuiamo Ci mancano ancora 15 secondi Poi passeremo dall'altra parte Ricordate che potete Ok? Interrompere quando volete Ma ributtatevi nella mischia appena che potete Ok? Questa è la cosa importante Ricuperi Sì Relax Ma non utilizzate i ricuperi come scusa di non fare più niente Ok? Cambiamo dall'altra parte Saluto sulla parte più cicciottosa del gluteo Incrocio le gambe Ok? Tengo la posizione E qui possiamo fare piccoli micro assestamenti giù e su Ok? Un'isometria Decidi tu dove ti senti meglio sulla schiena Ok? Questi sono i movimenti che ci devi crescere Ok? Quando io ti faccio il menuto di un movimento Perché se tu sei a livello del mio video Vuol dire che non serve questo video Così Allenandovi con me Ok? E siamo a 30 secondi Scatto finale Piccoli movimenti Abdominali tesi Grandi sorrisi Ok? L'addome se si allena tutti i giorni Ti darà grandi soddisfazioni Te la posso garantire Sono le ultime 12 secondi E poi passeremo al prossimo esercizio di oggi Ci mancano ancora 7 secondi Continuate Vai 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 Ci siamo 4 3 2 E stop Eccellente E andiamo subito sul prossimo esercizio Mettete le mani sotto le latiche Ok? Tenete e sollevate le spalle E flettete le gambe Ok? 8 7 6 5 4 3 2 Relax Ricupero 3 2 1 Ricominciamo Scendiamo 8 7 6 5 4 3 2 Relax E Tiriti su Ricupero 3 2 1 Continuiamo Scendiamo giù 8 8 7 6 5 4 3 2 Relax E in su Fantastici ragazzi Ci siamo quasi 3 2 1 Ricominciamo 8 7 6 5 4 3 2 And relax Eccellente Passiamo sul prossimo esercizio L'altra cosa bella delle plancie Sai qual è? E che possiamo Ok in posizione Cominciamo Dondolare l'asse sinistra Ok? Piccoli movimenti durante la plancia Aumentano Diciamo le difficoltà dell'esercizio L'intensità dell'esercizio E va a tra virgolette Spostare Su diverse Fibre muscolari Ok? E carico Che permette probabilmente Avere piccoli micro Ricuperi durante l'allenamento E questo ti permette di fare di più Facendo di più Avremo più risultati Ok? Ancora 30 secondi Continuiamo Proprio a un dondolo Destra e sinistra E destra e sinistra Continuate Vai 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 Abdominali a go go E vedrete che anche Quando facciamo tante plancie L'altro beneficio Di fare tutte queste plancie E che ti aiuti la schiena Più che altro Ti fortifica anche Tutta la colonna vertebrale Aiutandoti a evitare Piccole mal di schiena Continuiamo ancora 5 4 3 2 E passiamo sul prossimo esercizio